Un sacerdote sempre con il sorriso, capace di sacrificio, attenzione e affetto per tutti. Così il Vescovo Monsignor Alberto Tanasini ha presentato ai fedeli di Moneglia Don Stefano Giupponi, accompagnandolo nell'ingresso. Sono quattro le parrocchie che Don Stefano è chiamato a servire, Santa Croce, San Giorgio, San Saturnino e Lemeglio. Il Vangelo oggi ci parla dell'amicizia e quindi ho detto che sarebbe bello costruire insieme questa amicizia con questa nuova comunità, ma comunque una grande gioia ecco nel cuore. L'impegno c'è certamente, non è soltanto il sorriso. Cercherò di vivere l'esperienza che ho avuto nelle altre comunità e di costruirla insieme con questa nuova comunità. Quindi ci sarà da lavorare, ci saranno tante cose da fare. Innanzitutto bisogna incominciare anche dalle relazioni con le persone, quindi questo diventa la cosa primaria in questo momento. Auguro tanto bene e cercherò di vivere questo bene insieme con loro. Il sacerdote è strumento di mediazione di Cristo, ha ricordato il Vescovo, conduce alla salvezza dunque con sguardo aperto a tutti. È chiamato ad essere fedele nel molto e a smantellare la falsa religiosità indicando la strada della verità. Tante persone hanno voluto incontrare Don Stefano per questo primo saluto, tante lo hanno accompagnato al suo ingresso per un incarico che si annuncia impegnativo. Sono tante parrocchie ma sono certo che la comunità saprà stringersi intorno al nuovo parroco come l'ha fatto nel passato intorno a Don Massimiliano. Indubbiamente la parrocchia anche negli anni passati costituisce un punto di riferimento anche per tante risposte che riesce a dare ai bisogni sociali della città. Da parte del sacerdote un grazie per l'accoglienza ricevuta, estremamente calorosa e affettuosa e concretizzata anche dalla riproduzione del Santo Cristo donata al nuovo parroco al termine della celebrazione. Siamo tutte brave persone, a volte non siamo molto costanti, ci perdiamo un pochino ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Il parroco che si è presentato oggi sicuramente è una bella persona. Come paese siamo un paese abbastanza accogliente, lo accogliamo con gioia, con amore. Io l'ho visto una persona come ce l'ha presentata il Vescovo, una persona molto sorridente, molto cordiale che si può avvicinare con facilità. Grazie. 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 Grazie.